Parlavo di conflitti di interesse, c'è già qualche candidato che comincia a dire Brugnaro ha troppi conflitti di interesse, come può fare il sindaco di Venezia, la misericordia, i pili, il palazzetto, eccetera, eccetera. Come rispondi? Bene, allora, a questa domanda rispondo così. Chiunque fa qualcosa ha degli interessi. Chi non fa niente, interessi non ne ha. Allora, i miei interessi su Venezia, che adesso dico anche cosa voglio fare, sono questi. Ho comperato a un'asta pubblica dello Stato, ancora sei anni fa, 44 ettari di terra, che sono stati venduti dallo Stato italiano e io, perché non finissero in mano di qualche speculatore milanese o romano, li ho comprati e li ho gestiti e li gestirò quando avrò finito di fare il sindaco. Per quanto mi riguarda, in quei terreni, spiace per il lavoro, per le prospettive di occupazione, per gli investimenti, non farò nulla. Mi direte voi se dovrò o no regalare, perché di questo si parla, regalare una striscia di terra che il comune per due anni mi sta chiedendo di dargli e che per due anni gli dico che va bene, solo che devono organizzarsi per dire di sì o di no. Ho già anche pagato il progetto, perché il comune non ce l'aveva, per poter regalare un certo chilometro o due chilometri per fare la pista ciclabile, perché secondo me è una vergogna che con la bicicletta non si possa andare a Venezia. Se questo posso farlo, se me lo autorizzate, lo farò. Per il resto, nelle mie terre, nelle mie aree, dove ci ho messo i miei soldi e dove ho impedito che arrivassero i soliti noti da fuori, non farò nulla, perché è giusto, sarebbe un conflitto di interesse. Per cui questo lo chiariamo subito molto chiaro. Seconda cosa, Poveglia, anzi facciamo misericordia. Misericordia, un luogo che chi è di Venezia, più centro storico, chi è più appassionato di sport sa, che era il luogo simbolo dove la Reier giocava. Attenzione, queste cose spesso, i giornalisti un po' maliziosetti, lo sanno benissimo, ma non le raccontano. Adesso le racconterò tutte e ho addirittura, pensate, 60 giorni per scaricare tutto quello che ho nel gruppo e ne ho tanto che non avete idea. Tanta roba. Falsi. Guardate, c'è a livello di comunicazione, c'è una falsità su questa città, una cappa di omertà e di mafiosità che dobbiamo scoperchiare. Anche fosse solo per questo. Comunque, continuando a parlare degli affari miei, che per cui fino a oggi non erano in conflitto di interessi e potevo farlo, vi racconto cosa ho fatto sulla misericordia. Nota che non l'ho mai dichiarato, perché ci dice che quando si fa del bene non lo si dovrebbe dire. Si aspetterebbe che siano gli altri a riconoscertelo. Beh, qui non è mai successo. Com'è cambierà? Com'è una persona che sa fare bene il pane riceverà i complimenti in municipio? Una persona che lavora 50 anni umanamente a fare le barche riceverà un complimento, riceverà una medaglia, lo porteremo, ritorneremo con l'idea di maestri, delle persone che sanno fare il proprio lavoro. Ritorniamo a riconoscere il talento che c'è vicino a noi. Misericordia, prendo la Reier, molti anni fa, e ovviamente qualcuno dirà, con un piano strategico per diventare sindaco, di fatti 12 anni fa o 13 anni fa ho preso il femminile, che era una categoria, e abbiamo continuato a spendere i soldi sopra con pubblicità praticamente prossima allo zero, poi mi sono preso anche il maschile, perché ho pensato che era meglio per aumentare la comunicazione, e c'erano 12 tifosi quella volta, io e la Stefania ci siamo messi in prima fila, e da allora nessuno ci credeva, devo dire neanche alcuni tifosi, mi scrivevano addirittura la causa che ho fatto io da solo con la federazione, mi detto non farla, perché poi ti fischiano tutto contro, no a Venezia io non mollo niente, non mollo niente, perché era un nostro diritto e ci siamo andati, e adesso il tagliercio è pieno. Ho ristrutturato il tagliercio, scusate fra parentesi, 1.500.000 euro di soldi privati, cioè miei, dati a una struttura pubblica, perché pubblica resta, per spenderci comunque sopra, tanto per fare qualcosa, 8 milioni all'anno. Secondo voi è un conflitto di interesse? No, perché se volete io posso anche dismettere, ma questo non lo faccio, se no dopo la gente non mi vota più, perché se dico che lascio la Reier la gente non mi vota più, perché la Reier è il nostro orgoglio, è la nostra vita, è la nostra storia, non la mollo la Reier, sarà anche un conflitto di interessi. Siccome alla misericordia giocava la Reier, è successo che un accordata di costruttori, di persone, eccetera, hanno proposto un progetto di finanza, si chiama così, cioè i privati ristrutturano pagando dei soldi un bene pubblico e lo tengono in gestione per un certo numero di anni. Quando ho saputo che c'era questa operazione in corso, ho chiesto all'allora sindaco Cacciari di poter entrare in questa operazione, perché ho detto, ho diritto di essere almeno presente. Ha consentito, persona che ama questa città, Massimo Cacciari, la adorava prima e continuo ad amarla adesso, vediamo di non fare sempre i soliti dimenticoni. Una persona che ha fatto il sindaco per tre legislature non l'ho votato soltanto io, probabilmente l'ha votato anche qualcuno di voi. Perché cerchiamo di omaggiare le persone che sono state. È il passato, ma il passato va anche rispettato. Come rispettiamo i monumenti? Cerchiamo di rispettare anche le persone, tanto per cominciare. Comunque, sono entrato in questa compagine con una quota di minoranza, di questo progetto di finanza, perché ho detto, voi costruite e sistemate. Poi la tengo in gestione, perché la casa della Reie non deve essere data a nessuno. È successa la crisi economica e questi costruttori, passo passo, sono falliti. E io, passo passo, avendo la prelazione, essendo socio, ho comperato anche le loro quote, perché questo bene venisse finalmente ristrutturato e chiuso da 30 anni. No, tre, 30 anni. Qualcuno qui non l'hanno anche mai visto. Non c'era quando hanno cominciato a chiuderlo. E tutti erano alla misericordia. No, i vostri nonni, qualcuno da piccolo con i genitori. Bene, non è un conflitto di interessi, perché l'ho finita. Il Comune doveva darmi nella gara, era previsto che mi desse una fideiussione per fare un mutuo a spese mie, garantito da me, pagato da me. Nella gara era scritta questa cosa, non l'ho scritta io la gara. Il Comune non me l'ha mai voluto dare, perché qualcuno, imbrogliando, ha detto delle cose false, delle cose assolutamente ignobili. E io non ho ricevuto la fideiussione. Forse qualcuno, togliamo pure il forse, sperava che io restituissi il bene. Perché il progetto di qualche intelligentone che pensa che essere liberi, essere aperti, vuol dire casa, tutti quanti, quei, che se... Volevano fare un progetto della cultura araba. E io gli ho detto, ti vado a passarmi solo le mie, il progetto sulla misericordia della cultura araba. E gli ho risposto proprio così. Allora, sapete cosa ho fatto? Sono andato in banca e mi sono pagato con i soldi miei, perché il mutuo non potevo farlo, con i soldi miei contanti, ho pagato il restauro della misericordia, 10 milioni di euro. Ed è finito. Fra qualche due mesi, un mese e mezzo, lo inauguriamo. Finito il conflitto di interesse sulla misericordia. Parliamo della cosa più scottante, più frizzante. L'isola di Poveglia. Me la faccio da solo la domanda. Qua mi alzo, perché adesso mi sfogo. L'isola di Poveglia. Domani c'è la regata, per cui massimo rispetto alle persone che hanno aderito all'associazione Poveglia. Sia chiaro. Massimo rispetto. Tanti erano e sono ancora amici miei. Non c'entra nulla con le persone che hanno aderito alla sottoscrizione. È stata fatta una gara pubblica. Ma se questo sistema non va bene, qualcuno mi consigli che che altre organizzazioni per affidare le cose ci devono essere. Gara pubblica. Io leggo la gara perché a differenza di altri, io lavoro, invece che blatterale, perché poi quando è il momento non c'è mai nessuno, solo bla bla bla, perché i soldini come la cicala se li spendono. Io faccio la formichina, lavoro e metto da parte, lavoro e metto da parte e investo sulle mie aziende, sul mio lavoro. Questo è il motivo perché sono riuscito a mettere da parte. E questo comune forse deve riprendere da quelli che lavorano, che sanno la difficoltà, che spendono i soldi quando ce li hanno, che fanno i passi con le loro gambe. E così si è liberi e nessuno ti può chiedere niente. Vedo questa gara e dico partecipo alla conquista di quest'isola. La gara è una concessione per 99 anni dell'uso dell'isola. Il perché è la stessa ragione per cui si è mobilitata tutta questa gente dell'associazione Poveglia. Perché? Perché non vogliamo un altro albergo. E perché correttamente, che condivido pienamente, non vogliamo un uso privato e chiuso di queste isole. Perché l'uso di queste isole deve essere ancora aperto alla cittadinanza. Troppe abbiamo visto di queste cose che si fanno i grandi discorsi e poi alla fine guardate anche l'ospedale a mare, il buco del Lido, grandi progetti, poi restano tutti là e anche qua a Mestre. Io sono per sbloccarli tutti e li sblocchiamo, ve lo garantisco. Questo va alla forse l'ultima cosa che faccio, li sblocchiamo tutti. Tutti voi camminate e fate ancora tempo a vederli. Allora andiamo al Demanio, il Demanio fa una riunione pubblica e noi ci presentiamo la riunione di spiegazione di come si svolge la gara. Perché volevamo capire. Ci siamo presentati, e i giornalisti lo sanno benissimo, con il nostro nome e cognome. Siamo andati là a nome di umana, nessun Mr. X. Siamo presentati alla riunione con il nostro nome e cognome. Abbiamo chiesto informazioni come hanno fatto altri, sono arrivati anche gli americani. Perché facendo tutta questa cagnara sui giornali e su internet, giustamente, anche gli americani leggono il New York Times. Sì, è venuto. Ma è barra la filiale immobiliare. Madonna, stavo dicendo una cosa che non devo dire. Mi hanno detto che non devo offendere nessuno. Cioè, il mondo ci guarda e legge. E se tu gli dici che è un'occasione, arrivano. Ma arrivano le cavallette, arrivano quelli cattivi. Non è che arrivano i buoni. Non è che perché uno è straniero è buono. Non è vero. Siamo in una competizione globale. Competizione globale. Quello che resta qua è qua. Le navi da crociera nostre. Non ce le deve toccare nessuno. Sono nostre. C'è roba nostra. È il lavoro delle persone. Dobbiamo sistemare le cose, ma dobbiamo tenercene qua. Svegliamoci. Ci sono gruppi enormi che vogliono portarci via le cose. Ci sono interessi incredibili, nazionali e internazionali. Comunque facciamo questa riunione. Ve la faccio breve. Facciamo la riunione. Ci dicono, guardate, il prezzo, l'asta, parte da zero lire. Il demanio. La proprietà, così lo precisiamo la città, è del demanio. Attenzione. Cosa interessante e sfiziosa è che quell'isola è stata proposta anni prima, un anno o due anni prima, alla prelazione del comune, dell'amministrazione comunale, di cui maggioranza, dico, qualcuno non è estraneo di quelli che si candidano. Ed è stata rifiutata la prelazione. Per quello poi il bene viene messo all'asta. È chiaro? Solo che c'è un piccolo particolare che nessuno ha voluto raccontare, l'ho detto in tutte le salse. Che nell'asta, nel bando di gara, che tu devi accettare e firmare col sangue, e viene riportato nel poi affidamento a giudicatario dal notaio che ti viene data l'isola, viene scritto che tu devi essere, devi accettare le prescrizioni di tre sovraintendenze, perché quell'isola, oltre ad essere meravigliosa, sono circa sette ettari di terra, era il luogo, come voi sapete, dove si fermavano gli equipaggi prima di entrare in città per verificare che fossero sani, eccetera. Per cui c'era già una funzionalità medica. Poi nel tempo è diventato anche un ospedale psichiatrico, anche, non solo, anche. Però questa idea di quest'isola sanitaria a me aveva fatto venire l'idea, personalmente, di proporre un progetto per fare un ospedale per ragazzine, bambine, ragazzine, che soffrono di disturbi alimentari. È un'epidemia, credetemi, chi ne soffre purtroppo lo sa, e sono problemi di natura psichiatrica, sono disaffezioni, sono disturbi alimentari, sono il problema dell'anoressia, della bulimia, una cosa che è una piaga. In Canada, negli Stati Uniti, è molto più diffusa di qua, ma anche qua si toccano numeri da paura. Tanto è vero che sono stato contattato da medici, da primari di ogni parte del mondo, dicendo che era una bellissima iniziativa. L'idea era quella di fare un campus per questi ragazzi, aprire, l'idea che avevo io, aprire un grande orto botanico, aprire, ci sono là dei fruttetti che potevano essere messi in piedi, di nuovo, vecchi, antichi, dei rosetti dove i ragazzi potevano, diciamo, lavorare, perché per recuperare queste malattie bisogna farli lavorare. Pensavo anche di fare un luogo dove potessero arrivare i giovani artisti che non avevano soldi, quelli che lavorano con la biennale, col conservatorio, eccetera, all'università, che potessero in qualche modo creare un clima di socializzazione e di rapporto con queste persone magari più in difficoltà, diventava un luogo giovanile dove ci poteva anche stare per periodi brevi o lunghi e però nella gara stessa era precisato che il bene doveva restare pubblico, c'erano anche gli orari, eccetera. In più veniva aperto, nel mio progetto, nella mia idea, tutto un percorso addirittura di cinta dove addirittura avevamo immaginato di scavare, diciamo, sul bordo, mettendo del vetro per vedere anche tutta la fauna e la frola ittica della laguna. Un progetto che avrebbe dato posti di lavoro, circa 200 posti di lavoro. Allora, ho presentato, abbiamo chiesto i chiarimenti, abbiamo fatto l'offerta in busta chiusa e ci hanno detto, guardate che voi, oltre che offrire i soldi per l'isola, dovete accettare la condizione di ristrutturare tutti gli edifici. La condizione che veniva messa dal notaio, poi, all'aggiudicatario, è che chi si assegnava all'isola, per cui anche a un euro, si prendeva un mutuo, cioè un debito, che noi abbiamo stimato noi, per fare la ristrutturazione con tre vincoli. Archeologico, lì c'è un parco archeologico dove qualcuno vuole continuare a fare la pipì. È inaccettabile questa cosa, cioè, siamo rispettosi anche delle cose, della verità. Secondo, devi ristrutturare gli edifici con i vincoli della sovraintendenza architettonica ambientale, non robetta. Noi abbiamo fatto un conto che ci vogliono circa 40 milioni di euro per fare l'intera operazione, per cui devi averceli. E noi avevamo fatto questo progetto. Se tu non finivi i lavori scritti nella gara, vi invito per favore, per amore di verità, a andarlo a vedere, se non li finivi entro dieci anni, quello che avevi fatto ti veniva confiscato tutto e tornava tutto nei beni dello Stato. Io avevo accettato una condizione folle del genere. Per cui adesso, con questa mia candidatura a sindaco e con l'ovvio conflitto di interessi, dico che ritirerò. Allora, ho vinto la gara, ho fatto la busta. Noi abbiamo offerto 500 mila euro e si è presentata soltanto, anzi, due cordate. Una che aveva sbagliato l'offerta e l'hanno scartata. La seconda cordata mi pare che abbia offerto 350 mila. Adesso non voglio sbagliare la cifra, circa, più o meno. A quel punto queste due offerte sono state messe in gara, per cui il demanio ha bandito la gara, non ha detto è troppo poco, perché dietro a questa offerta c'erano anche i 40 milioni, i 20 milioni. Dopo uno può mettere le cifre che vuole, noi abbiamo fatto questo conto qua. La messa in gara ha aperto la gara, una gara elettronica. Noi ci siamo presentati, ci hanno dato un codice di gara. Non si può fare una gara con nome e cognome, perché se no è turbativa d'asta. Tutte le dichiarazioni fatte sui giornali sono illegali, è turbativa d'asta. Perché così scappi e fai scappare gli investitori. Non puoi raccontare così. Non è corretto se vogliamo fare un discorso di correttezza. Noi siamo stati al gioco, ci siamo mossi correttamente. Siamo persone oneste. Questa è la novità. La grande novità è che siamo persone per bene, purtroppo. Comunque, abbiamo fatto la gara. Abbiamo ovviamente l'asta è partita dalla nostra prima offerta in busta chiusa. L'altra cordata non ha rilanciato. Se no noi avremmo continuato a rilanciare. Non ha rilanciato e è stata aggiudicata a 513 mila euro. Che era il numero che avevamo messo all'inizio. Il 13 perché mi porta fortuna. Speriamo che si vada a votare al 31 così sono proprio a posto. No, per dire. Bene. A quel punto là il demanio ha ritenuto, ha fatto le sue valutazioni, ha fatto una riunione, hanno fatto gli atti e hanno ritenuto che l'offerta, di giudicare l'offerta, non congrua. Per cui non hanno proceduto all'assegnazione. Non mi hanno assegnato l'isola. Noi abbiamo fatto un accesso agli atti. È una cosa legale. Si può fare. È una cosa che si può fare. È legale. E ci hanno dato gli atti. Abbiamo letto gli atti. Adesso non ve li racconto, perché questi fanno parte di una causa. Abbiamo ritenuto quegli atti. Poi andatevi a vedere, ci sono chi ha le deleghe al demanio. Sempre solite robe politiche. Perché così si prendono voti. E vi fa capire quanto bravo sono a fare il candidato sindaco io. Che se avevo il piano di fare il candidato sindaco, forse queste robe non davo a impiantarmi su. Per cui vuol dire che forse per l'ennesima volta è la dimostrazione poveglia che sono una persona onesta. Semplicemente una persona onesta. Abbiamo ritenuto che questa roba qua non fosse legittima dal nostro punto di vista. Abbiamo guardato e abbiamo contestato al TAR. Abbiamo chiesto al Tribunale regionale amministrativo. Caro Tribunale, questi sono gli atti. Ti sembra che rispettino la legge? Punto. Questo abbiamo fatto a oggi. Oggi sono qua a dire, siccome evidentemente mi sto candidando al sindaco di Venezia, io questo progetto, questo ospedale, tutti questi soldi e questo investimento, non lo faccio più. Né in un modo né nell'altro. E a chi ha fatto tutta sta bagarre e domani, durante questa regata, sappiano, i cittadini onesti, ed è tantissimi amici miei che stanno avvocando, si ricordino che adesso la responsabilità di questa cosa resterà a loro. Adesso io vigilerò come sindaco che chiunque venga per fare accordi, per fare convenzioni, per fare qualsiasi cosa, perché io non ci sarò più. È un giuramento solenne qui. La toglierò questa causa. E l'isola avrà il destino che ci mediterà. Ahimè, però per me non posso più farci niente. Io ho tentato di bloccare e di salvare l'isola. E per forza di cose, giustamente, se non sarei attaccato di conflitto di interesse, l'ho capito, è benissimo. Per quanto mi riguarda quel progetto, è chiuso. Come è stato l'ospedale di Corbusier? Questo è l'ennesimo ospedale che a Venezia. Vuol dire che gli ospedali non portano bene a Venezia. Dobbiamo fare discoteche, forse i pianobar e i baretti. Quelli funzionano di più probabilmente. Perché certa gente vive di baretti e di cicchetti. Non possiamo vivere a baretti e cicchetti a far festa. Perché io alla mattina mi alzo e si è. E se qualche dunque vuoi anche a dormire, magari. Forse questa città dovrebbe ricominciare un po' anche dalle persone che lavorano. Perché sentirmi dire che sono anche puntini puntini. Perché vado a lavorare? Perché sono un fanatico del lavoro. Ma scusate, non faccio niente a nessuno. Guadagno i miei soldi correttamente. Ho sempre pagato una montagna di tassi. Ho una barca, lo diciamo così, se c'è un conflitto di interesse, non so. Ho sempre battuto bandiera italiana. Sempre. Penso l'unico matto che ha comprato la barca in Italia. Ancora 15 anni fa e avevo già un piano per diventare sindaco di Venezia, giusto. E l'ho pagato tutta l'IVA. Io sono uno che ha pagato tutto. Quando giri così, tante barche, scampai a mia sedà. Io giro con 7,40 in macchina, non c'è problema. Fatemi le pulci di quello che volete. Sapete cos'è? Che il lavoro non ne sta. Deve vincere. Deve vincere. E prima o dopo qualcuno lo dirà. mia mamma ha detto male non fare, paura non avere. Ricordiamocelo, Venezia era così. Grazie. 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 Grazie.